Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Sabrina Salerno ha di recente incantato tutti i fan con un look da vera vamp indossato per la Milano Fashion Week Sabrina Salerno è una delle cantanti e showgirl più avvenenti che abbiamo in Italia Fin dagli anni Ottanta ha incantato tutti gli italiani con la sua bellezza tipicamente mediterranea e la sua sensualità innata Il suo successo ha travalicato i confini nazionali e si è diffuso in tutta Europa Nel corso della sua carriera Sabrina ha sempre saputo mettere in risalto sia le sue qualità vocali che fisiche Sono infatti numerosissime le foto in cui si mostra ai fan di Instagram in posse seducenti e con outfit aderenti in grado di sottolineare al meglio il suo fisico assolutamente perfetto A 54 anni, la Salerno non ha perso un grammo della sua bellezza, e lo ha dimostrato alla Milano Fashion Week Sabrina Salerno incanta la Milano Fashion Week con l'outfit perfetto In occasione dell'importante evento della moda mondiale, la Salerno ha pubblicato un video in cui è apparsa con indosso un mini tagliere verde smeraldo formato Elisabetta Franchi L'abito era dotato di un'ampia scollatura che ha messo in risalto il décolleté importante della showgirl A completare l'outfit, un paio di scarpe attaccolato color panna, una borsetta nera rigida con catenina e un paio di grossi occhialoni da sole da vera diva Il mini abito ha messo in risalto le gambe lunghissime e toniche della showgirl e cantante, che per i suoi followers di Instagram ha sfilato come una vera modella nella hall del suo hotel di Milano Sabrina è poi all'esterno dove l'aspettava un'auto che l'avrebbe portata al prestigioso evento Una volta giunta sul posto, la Salerno ha postato una serie di altre stories su Instagram in cui appare accanto alla bellissima Alba Parietti a Joe Squillo Finalmente insieme, ha esclamato la bella showgirl in una storia in cui si è mostrata abbracciata all'amica Alba A quando si vede dai successivi video delle sfilate pubblicate da Sabrina, pare che a lei sia stato riservato un posto in front row, una posizione perfetta, e di prestigio, per ammirare in prima linea gli abiti delle diverse collezioni Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao Ciao Ciao